Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, buona domenica, è passata un'altra settimana come il tempo vola, settimana prossima sarà la domenica delle palme, quindi manca pure poco a Pasqua. Bene, quindi come tutte le domeniche facciamo un punto della situazione, un riassunto per quanto riguarda i principali casi che noi trattiamo qui sul canale. Quindi per quanto riguarda il caso principale che è quello di Liliana Resinovic, ovviamente è solo polemica quella di cui possiamo dar conto, solo sterile polemica perché in effetti novità non ce ne sono. Però stamattina volevo fare una precisazione perché quando si dice bisogna cercare la verità e le contraddizioni, ebbene mai come in questo caso ci sono contraddizioni un po' di tutti, sia del marito e sia di questo signore che si spaccia per essere l'amante senza esserlo. Ecco, e senza essere, quando dico senza esserlo non è un'opinione, è un dato di fatto perché a me hanno insegnato che quando si afferma qualcosa poi bisogna pure dimostrarlo e non è dimostrato da nulla, non è certificato da nulla. Ad esempio, facciamo un particolare, quando la dottoressa Gabriella Marano dice che c'è una perizia informatica che racconta come Liliana volesse andarsene di casa, ebbene non si fa un servizio alla verità perché la gente che ascolta giustamente non è che può andare ad informarsi direttamente, può accedere alla perizia informatica, quindi raccoglie quello che viene detto come se fosse la verità. Mentre io invece ho visto la perizia informatica, vado alle fonti, quindi quanto detto dalla dottoressa Marano, riferito alla perizia informatica che attesterebbe questa volontà della Resinovic, non è una cosa vera. Perché? Perché avendo letto questa perizia, si può affermare che nella perizia informatica non c'è nessuna volontà. Non c'è nessuna volontà. Praticamente non ci sono messaggi, nemmeno uno, dal quale si può evincere anche latamente questa volontà. Ad esempio, quel famoso messaggio Mariano, rifatte le statuette, la Madonna, la Madonna così, e con quella scritta che adesso non ricorda esattamente, ma dice se quando ti senti triste, se ti senti solo, ricordati che ti amo, ecco che è una nota frase della Madonna, quindi viene applicata sotto delle statuette. Questa foto, che non è nemmeno un messaggio, che è stata fatta vedere più volte, ad esempio non c'è. Nella perizia informatica non c'è, non esiste. Quindi noi abbiamo visto questo screenshot che ci è stato fatto vedere in tv, e rimane un mistero, perché se parliamo di perizia informatica, se parliamo di perizia informatica, nella perizia informatica questo non appare. Nella perizia informatica però appaiono certe cose che poi sono sparite dal cellulare di Serpino, cosa anche comica questa, no? Strana. C'è alcune cose che compaiono nella perizia informatica, però scompaiono sul cellulare dell'Osterpino. Ad esempio, quei messaggi che l'Osterpino stesso mandò quella mattina del 14 dicembre, non so, dopo le 10, insomma, in cui diceva «Cambè, aspetto un segnal, aspetto sempre un segnal, qualsiasi esso sia». Ecco, da dove scaturiscono questi messaggi? Dalla perizia informatica, nella quale si vede come questi segnali giungevano da Serpino alla Resinovic. E sono stati cancellati, poi, sul suo cellulare da Serpino. Ma perché sono stati cancellati? Oddio, sarebbero stati, come dire, un qualcosa di positivo, no? Di manifestare questa intenzione di cercare. Eppure si vede che sono stati cancellati perché ritenuti un po' troppo invasivi, e vi aspetto un segnal, qualsiasi esso sia, che spediti dopo un'ora, un'ora e mezza, insomma, che non si trovava questa donna. Sembra qualcosa di davvero eccessivo, sembra qualcosa quasi di incredibile, no? Uno può aver trovato per strada, non so, un amico, un'amica, andiamoci a prendere un caffè, ha cambiato destinazione. Cioè, dopo poco, aspetto un segnal, qualsiasi esso sia. Immaginate, quindi, dà l'impressione, queste frasi danno l'impressione come se lui sapesse questo grave pericolo al quale andava incontro la Resinovic. E quindi, questi messaggi, come, aspetto un segnale, aspetto sempre un segnale, vengono cancellati dallo Serpino quella mattina del 15, prima che lui si rechi in questura. In questura, a rendere la verità, come dice lui. Peccato che, cancella questi messaggi, è peccato che, nella verità che lui riferisce in questura, dimentica la telefonata più importante, quella del giorno precedente, di 16 minuti, mai effettuata così lunga, è peccato che, quindi riferisca una volontà parziale. Quindi, vedete come queste omissioni, queste contraddizioni, siano da tante parti. Poi, figuriamoci, poi, che dimentica totalmente il garage, la cantinola, la soffitta. Quelle, quelle no. Si dice soltanto alcune cose, si dicono. perché lui, cioè, se devi dire la verità, la devi dire tutta, del garage, della cantinola, della telefonata lunghissima del giorno 13, dei messaggi che fai vedere, no? e anzi, erano messaggi di preoccupazione, ma li cancella perché, ecco, non vuol far certificare questa sua eccessiva preoccupazione. Quindi, nella perizia informatica, non ci sono, ci sono questi messaggi, cambei, eccetera, eccetera, e invece non ci sono più, sul cellulare di Serpin. Come pure, ad un'ordine del vero, nella perizia informatica, non c'è nemmeno quel famoso messaggio che viene sbandierato in relax, pensando a domani, a M, che poi si legge, amore mio, io non leggo amore mio, a M, quindi, questo messaggio, in relax, pensando a domani, ripeto, questo messaggio, in relax, pensando a domani, non compare nella perizia informatica, ripeto, questo messaggio, in relax, pensando a domani, non compare nella perizia informatica, ripeto, questo messaggio, in relax, pensando a domani, non compare nella perizia informatica, E' stato però mostrato come screenshot da Serpin, però questo messaggio non compare nella perizia informatica. Quindi, vedete, cose strane. E poi questi tre o quattro camp, camp, così estrapolati, sono comunque indici di niente, perché non sono contestualizzati, non hanno un prima, non hanno un dopo, quindi ci sono tutte delle cancellazioni prima, delle cancellazioni dopo. E quindi non si capirebbe perché di tutte queste cancellazioni del prima e del dopo che rendono alcuni acronimi anche più, come dire, più difficili da interpretare. Perché questo? Nel momento in cui si consegnano dei cellulari, secondo me bisognerebbe consegnare così come sono, invece molti colloquiosi sono stati cancellati, tutti. I messaggi venivano tutti cancellati, cancellati anche da Liliana, ma non si capisce perché venissero cancellati anche dallo Serpin, tranne qualcuno, così, una tantum. Quindi quando si dice, ecco, i messaggi, questo è il nulla mischiato al nulla. Abbiamo cosa? Abbiamo centinaia di telefonate brevi, più quella telefonata lunga. E' su quello che bisognerebbe ragionare per capire, insomma, che non può mai trattarsi di una storia da mura. Mai, mai. Qualc'altra storia di altri tipi di interessi in comune, questo sicuramente. Quindi bisogna chiedersi perché alcuni messaggi, cioè quasi tutti i messaggi sono stati cancellati e qual è il motivo soprattutto per il quale lo Serpini, che era vedova già, no? Doveva fare questo tipo di operazione. E secondo me, secondo me, secondo me, lui li cancellava perché, perché altrimenti, se noi avessimo visto una serie di messaggi di anni, cioè gli ultimi tre, quattro anni, avremmo visto come la natura di questi messaggi fosse una natura amicale, ecco, di vecchia conoscenza, un saluto così. Quindi non c'è niente che ti conduca a qualsiasi storia d'amore che ormai è diventata una bagianata, ahimè, creduta da tanti. Quindi, qualcuno dice, se non vi è contestualizzazione, di che cosa stiamo parlando? Sono messaggi davvero autentici? Perché è strano che alcuni messaggi non esistano proprio nell'aperizia informatica, si sono persi qualsiasi traccia, non esistono, mentre invece quelli lì, cambè, aspetta un segnale, aspetta sempre un segnale, esistono nell'aperizia informatica ma sono stati cancellati dall'Osterpin prima che egli sia andato in questura. compreso, ad esempio, è stata accertata, compresa la cancellazione di una discussione sul Covid, il fatto del Senato americano, le leggi sul Covid, eccetera. Perché è stata fatta questa cernita? Questa estrapolazione, per meglio dire. Quindi, sarebbe stato interessante invece vedere tutta la cronologia degli ultimi anni, ma purtroppo non è stata possibile. E quindi si dà un'immagine distorta, secondo quello che si vuole fare apparire. E come, mi viene in mente, vedete, come quella foto che pure l'Osterpin fa vedere, se vi ricordate, quella foto di Liliana in abito rosso, che passa così, e che lui attribuisce, dice, una foto scattata da lui a volo, è l'unica foto da lui scattata al volo, fuori dal comune, in un matrimonio civile, che lui data settembre, settembre 2021, quindi pochi mesi prima della scomparsa, dice, lei stava passando di lì per venire a vedere me, e io stavo con mia moglie a questo matrimonio civile, io l'ho vista, tac, e fatto la foto a volo. Vedete, questa è un'altra cosa fattualmente non vera, perché la moglie dello Sarpini già era mostra da circa un anno. Sappiamo che era mostra nel dicembre 2020, la moglie dello Sarpini, Quindi, quando lui anche in tv riferisce di questa cosa qui, di questa foto fatta, che era settembre 2021, questo matrimonio civile, ovviamente, o era il fantasma della moglie, o comunque non era così. Poi, veramente è surreale che egli riferisca di questa foto fatta a volo, quando poi, di foto fatte insieme, non ce n'è traccia, nemmeno facendo una ricerca proprio in qualsiasi dispositivo. L'unica foto in cui vengono ritratte insieme è proprio quella, l'unica che fece loro, Sebastiano Vicentino. Poi, dalla perizia informatica, cosa si legge? Si leggono una serie di SMS, che sono SMS normalissimi, da cui non si evince alcun tipo di passionalità, niente, niente, niente. Poi, dalla perizia informatica, ad esempio, ci sono pure quelle due famose ricerche sul divorzio, uno di agosto, uno di novembre, due ricerche, come si divorzi senza avvocati, il tempo fra il divorzio e la separazione del divorzio, che, capirete bene, sono elementi anacronistici così distaccati fra di loro e non conseguenziali a niente. Poi, dalla perizia informatica, risulta pure che, un'altra cosa strana, questo per dire come, quando si mette in risalto qualche omissione e contraddizione, bisognerebbe farle con tutti. Nella perizia, risulta anche che il 19 dicembre, Sebastiano chiama lo Sterpin, col telefono di Liliana, per ben quattro volte, chiama lo Sterpin per ben quattro volte, senza ricevere risposte. Quindi, il giorno 19, Sebastiano chiama col telefono di Liliana ben quattro volte il numero dello Sterpin, senza ricevere risposte. Ora, c'è da chiedersi perché lui non abbia risposto. E perché è importante che non abbia risposto? Perché ci è sempre stato detto che lui aveva la speranza, così ci hanno riferito anche i vicini di casa, lo stesso Sterpin, che lui aveva la speranza che lei se ne fosse andata un poco prima e poi ricompariva il 19 che doveva andare a casa da lui. Ora, se c'era questa recondita speranza che lei ricomparisse per andare a casa sua, capirete bene che nel momento in cui ci sono ben quattro telefonate, il 19 dal telefono di Liliana, ti viene naturale rispondere e se per tutte e quattro volte non puoi rispondere chissà per quale motivo, magari subito richiami, invece questo non è avvenuto. Quindi, è strano anche questo. Poi, certamente, è una contraddizione anche il fatto che si dice che lei era andata via per poi ricomparire, però già dal primo momento la si cerca come persona morta, cioè dal primo momento si parla di ricerca di una donna nei sacchi neri o di una donna che stava buttato lì nel bosco nuda, addirittura. Non si capisce per quale motivo ecco, ci fosse questa convinzione. Poi ci sono anche dei dati del GPS che sono curiosi, perché anche il GPS fa una mappatura dei vari spostamenti e dal GPS che cosa si nota? Quindi dall'azione combinata del GPS con le telecamere stradali noi che cosa sappiamo? che quel 14 di dicembre lo Serpino va per ben due volte sotto casa di Liliana, una volta verso le 12.30 e un'altra volta verso le 13.30 e qui si apre un mistero perché non si capisce, sembra quasi qualcosa come dice Carmela Abate ma la stava cercando o la stava abbraccando. Non si riesce a capire l'oggetto di questa andata per due volte diciamo sotto casa di Liliana. Perché qualcuno che va fino là ed è preoccupato scende, bussa, chiede. Invece non sembra che ci sia stata nessun tipo di ricerca, non ha bussato a nessuno né a casa di Liliana né a casa dell'amico Salvo. Quindi c'è qualcosa che non va perché poi la seconda volta cosa ci dice il GPS? Che rimane fermo almeno una quindicina di minuti sotto casa di Liliana, non si sa fare cosa, poi poi non scende non scende per via Damiano Chiesa perché è vero che le telecamere della scuola di polizia alle 13.45 si smettono di funzionare ma i dati del GPS però funzionano per cui dopo essere stato circa 15 minuti lì sotto casa di Liliana senza bussare a Salvo poi lo chiamerà una mezz'ora dopo è una cosa incredibile che cosa fa? Non scende più per via Damiano Chiesa ma prende la strada opposta che va verso l'alto quindi la strada verso via via di Basovizza per far ritorno verso casa sua quindi fa un altro raggitto beh sono 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 dei punti come dire grigi dei punti oscuri che di cui non si è mai saputo ci si chiede se lui fosse davvero preoccupato quella mattina o fosse arrabbiato però resta il fatto che questa storia si spiega partendo da da un qualcosa che è stato creduto ma che non esiste ecco questa storia aveva bisogno di un occhio diciamo più neutro che andasse a indagare Sebastiano la sua vita il fatto di tanti soldi a casa che facevano cosa non facevano ma doveva ampliarsi anche ecco al tipo di rapporto che aveva con Serpin insomma dove poteva andare quella mattina invece è stato dato credito a questa storia d'amore anche incredibile anche pacchiana diciamo e dispiace vedere come la gente sia tanto credulona da da credere a una roba del genere forse lo si fa per antipatia per simpatia verso i personaggi oppure per dire no hai visto come io avevo ragione però immaginatevi se questa questa storia così come è stata raccontata a puntate avesse riguardato come dire una vostra sorella una persona cui voi volete bene che pensate che sia una persona di valore potevate mai credere che vostra sorella questa vostra amica scendesse così in bassa con con queste farneticazioni invece in questa storia si ragiona per partito preso ecco messaggi cancellati telefonate non spiegate bisognerebbe credere che questa resino preparasse come dire guadisse Emilio Infante la carampata di Natale la sorpresa di Natale purtroppo tutto questo non esiste non è mai esistito non si è voluto indagare in tal senso quindi in questa riflessione domenicale cosa ci siamo detti ci siamo detti che se è vero che scavando nella vita di ognuna quindi anche in quella di Sebastiano si dice ma perché è così e forse non era un buon marito e si arrabbiava e voleva andare sempre in giro e qua e là e la borsa e il cordino e si vanno a cercare tutti quegli elementi per dire non era una brava persona eccetera però si perde di vista cosa proprio il fine ultimo di vedere c'è qualcuno che ha potuto far del male a Liliana Resinovic quel 14 dicembre dalle 8 e 50 alle 9 e 20 in quella mezz'ora che comunque cambia la sua vita sia che si sia suicidata sia che che sia stata presa sia che si sia allontanata spontaneamente comunque è cambiata la sua vita in quella mezz'ora quindi è lì chi ha potuto incidere sulla sua vita ecco chiediamoci questo e quindi quando si dà il microfono Semilo Serpin che si qualifica amante e fa addirittura le indagini critica la procura la polizia i carabinieri critica tutti e dice fate questo fate quell'altro lui è il colpevole è qualcosa di incredibile perché alcune di queste contraddizioni che vi ho detto stamattina che derivano dalla perizia informatica la dicono lunga e allora mettiamoci tutti sullo sullo stesso livello vedete purtroppo qua si creano guelfi e ghibellini che hanno portato purtroppo questa questa storia in un piccolo cieco che non ha alcun tipo di soluzione finché non si vedrà oltre questa diatriba questa sciocchezza della storiella d'amore finché non si vedrà oltre purtroppo faremo soltanto gossip 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 a volontà fino a che qualcuno non abbia la decenza ecco o direi l'umanità di mettere fine fine a questa storia davvero per far riposare in pace questa donna che davvero lo merita dopo 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 che si è detto di tutto e di più grazie buona domenica a tutti condividete il video su tutti i social con i vostri amici con le vostre amiche e settimana prossima faremo una live insieme un abbraccio a tutti quanti voi un abbraccio un abbraccio